Martedì 23 maggio 2017 alle ore 10 presso l'Aula Magna del Polo Universitario di Gorizia in via Alviano avrà luogo il seminario su la prospettiva europea dei Balcani Occidentali ed il processo dei vertici che prevede l'intervento sul tema del ministro plenipotenziario degli affari esteri e della cooperazione internazionale dottor Michele Giacomelli, inviato speciale del Ministero Italiano degli Esteri per il processo dei Balcani Occidentali. Partecipa al seminario l'onorevole ministro degli affari esteri Angelino Alfano che a seguito della recente apertura degli stati generali maeci per la promozione all'estero della formazione superiore italiana e internazionalizzazione del sistema universitario svolgerà un intervento sui vertici di Trieste tra continuità e innovazione. Tale vertice è infatti previsto a Trieste nei giorni 11 e 12 luglio 2017.